Anche se sapevano di trovarsi di fronte ad una situazione di emergenza, le condizioni di salute di Feliciano non potevano essere ignorate mentre si svolgeva l'intervento di Curro. Nonostante la consapevolezza della situazione di emergenza, le critiche condizioni di salute di Feliciano emergono in modo preoccupante durante l'intervento di Curro, richiedendo un'attenzione immediata. La scelta di Abele e Giana di affrontare prontamente la sfida impellente li porta a stabilire che la priorità deve essere l'intervento chirurgico per Curro, considerando la sua corrente condizione anestetica. Prima di continuare, ricordati di iscriverti al canale per entrare nella community. La sequenza delle operazioni prevede che Abelm si dedichi prima a Curro e successivamente a Feliciano. Questa decisione suscita la rabbia di Teresa, che, travolta da ansia e timori, reagisce con un'esplosione di frustrazione. L'attribuzione di priorità a Curro delude profondamente Teresa, che avverte un senso di trascuratezza nei confronti dei suoi affetti più cari. Inondata da queste emozioni, Teresa si lancia prontamente nell'azione, concentrandosi risolutamente sulla ricerca di una soluzione immediata per migliorare le condizioni di Feliciano. La sua determinazione si fa strada attraverso il tumulto emotivo, alimentando la sua risposta attiva alla crisi in atto. La repentina e inattesa decisione di Teresa provoca stupore e perplessità sia in Abel che negli altri membri della famiglia. Tuttavia, l'indomita determinazione di Teresa, alimentata dal suo profondo amore e devozione per Feliciano, emerge come un motore inarrestabile. La sua volontà di fare tutto il possibile per preservare la vita di Feliciano la spinge ad agire con risolutezza e fermezza, superando gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di questo imperativo obiettivo. All'interno della sala operatoria, mentre Abel e Giana si dedicano a un lavoro meticoloso, l'atmosfera fuori è attesa. La famiglia e gli amici, in attesa ansiosa, scandiscono il tempo contando le ore, con un misto di eccitazione e apprensione. Le preghiere si alzano, sperando che ogni sforzo compiuto durante l'intervento succurro sia coronato dal successo. Il silenzio che avvolge la sala operatoria, se da un lato infonde un barlume di speranza nei cuori di tutti, dall'altro porta con sé una significativa incertezza sulle sorti future. Lorenzo e Cruz, in particolare, guardano con apprensione le notizie che si attendono da dentro la sala operatoria, conscio che l'esito dell'intervento non solo influenzerà il destino di Curro, ma avrà ripercussioni sul destino di tutti i presenti. La rivelazione dei piani, se venisse alla luce, metterebbe in pericolo non solo le loro esistenze, ma anche la loro libertà. In un contesto di tensione, si trovano ad affrontare le conseguenze delle loro azioni passate e si battono con determinazione per mantenere nascoste le verità nonostante le minacce di Cruz. Romulo, nonostante gli ostacoli, si adopera con tenacia per scoprire i motivi reali dell'incidente durante la battuta di caccia. Le indagini di Romulo procedono con l'obiettivo di rivelare i fatti in modo imparziale, resistendo alle pressioni e agli ostacoli sul suo cammino. Nonostante la tattica di Cruz, Romulo si aggrappa alla sua determinazione per far emergere la verità sull'incidente e assicurarsi che la giustizia sia fatta. Ogni passo di Romulo è calibrato con attenzione, raccogliendo prove, ascoltando di nascosto i testimoni e lavorando con precisione per scoprire la verità. Mentre Romulo prosegue nelle sue indagini, la sua determinazione a rivelare i fatti in modo equo e imparziale non vacilla, nonostante le varie pressioni e gli ostacoli che gli si presentano. Nonostante le tattiche intimidatorie di Cruz, Romulo persiste nell'avanzare nell'indagine sull'incidente, assicurandosi che giustizia venga fatta. Ogni passo di Romulo è calibrato con attenzione, raccoglie prove, ascolta di nascosto i testimoni e lavora meticolosamente per portare alla luce la verità celata. Vera viene a conoscenza dell'arrivo dell'ospite dell'ultimo minuto, la Duchessa Margarida, e fea tutto il possibile per evitare questa situazione. Tuttavia, Margarida e Catalina iniziano a sospettare a causa dei cambiamenti improvvisi e del comportamento nervoso di Vera. L'eccitazione e il disagio di Vera destano la loro attenzione, alimentando il sospetto che stia nascondendo qualcosa. Questo suscita ulteriori domande sul misterioso passato di Vera, portando Margarida e Catalina a mettere in dubbio le sue vere intenzioni. Vera, da tempo, nutre sentimenti profondi per Lope, ma non li ha mai espressi. Tuttavia, alla fine, Lope, notando i cambiamenti negli occhi e nelle emozioni di Vera, intuisce i suoi sentimenti nei suoi confronti. Questa consapevolezza può portare a un legame emotivo sempre più profondo tra loro e forse a una nuova fase nella loro relazione. Il tempo dirà se Lope è pronto a ricambiare i sentimenti di Vera o se esiterà su come affrontare questa situazione. Mentre lo strano comportamento di Candela continua, Simona si trova ad affrontare una situazione inaspettata. Nell'episodio 290, Abel conclude finalmente l'intervento su Curro, ma la situazione prende una svolta inaspettata e preoccupante. Curro non si sveglia dopo l'operazione, generando una crescente preoccupazione in Abel. Inizia a rivedere attentamente la quantità di etere somministrategli durante l'intervento, sospettando che ne abbia ricevuto troppo. Questa difficile situazione costringe Abel a mettere in discussione le proprie capacità professionali, intensificando ulteriormente i suoi sforzi per salvare la vita di Curro. La notizia sullo stato di salute di Curro sconvolge profondamente tutti, ma Lorenzo e Cruz sembrano provare una gioia segreta, aumentando le probabilità di successo del loro piano segreto. Questa gioia, tuttavia, appare inquietante rispetto alle preoccupazioni e ai dolori degli altri. Nel frattempo, Cruz prosegue con il suo piano per esercitare pressione su Pelaio, cercando di convincerlo ad espellere Catalina dal palazzo e a proporre il matrimonio. Si intuisce che Cruz ambisca ad aumentare il proprio potere all'interno della famiglia e a influenzare i processi decisionali. La riuscita del suo piano dipende fortemente dal sostegno di Pelaio e Cruz fa il possibile per convincerlo a sostenere la sua causa. Tuttavia, la richiesta di Cruz comporta un rischio significativo, poiché Pelaio dovrà valutare l'impatto che avrà sui suoi piani personali e sulle sue relazioni con Gialli e altri. Il motivo principale per cui Cruz ha consentito al ritorno di Maria Fernandez a Palazzo è chiaro. Vuole guadagnarsi il favore di Catalina attraverso Pelaio. L'obiettivo di Cruz è consolidare la sua posizione all'interno della famiglia, ottenendo il supporto di Pelaio e guadagnandosi la sua fiducia. Quest'ultimo ha permesso il ritorno di Maria Fernandez. Candela spiega di aver temporaneamente lasciato il palazzo per riportare Virtudes, la figlia di Simona, che non vedeva da molto tempo. Questo evento inaspettato svela il segreto dietro il comportamento di Candela, fornendo una spiegazione ai suoi misteriosi movimenti nel palazzo. La figlia di Candela, Virtudes, diventa oggetto di grande curiosità per gli altri personaggi, che si domandano perché non si vedeva da tanto tempo e quali motivi l'abbiano riportata a palazzo. Simona è visibilmente felice di riabbracciare Virtudes dopo tanto tempo. Questo inaspettato incontro si riflette nel sorriso di Simona e nella gioia che prova nel cuore. L'inaspettata e amorevole sorpresa riempie il vuoto nel cuore di Simona, facendola riflettere sui legami familiari e incoraggiandola a guardare al futuro con speranza. Nel frattempo il misterioso comportamento di Vera attira l'attenzione generale. La borsa piena di soldi nella soffitta aggiunge un ulteriore elemento di mistero alla trama. Teresa, agendo con determinazione, chiama un altro medico per Feliciano, portando un cambiamento nei dinamismi del palazzo. Sebbene questa mossa offra nuove speranze per la salute di Feliciano, potrebbe anche mettere in discussione la fiducia nelle capacità di Abel. La pressione su Abel aumenta e il modo in cui gestirà questa complessa situazione potrebbe subire un cambiamento significativo. Gli altri abitanti del palazzo, sebbene apprezzino la decisione di Teresa, sono determinati a fare il possibile per migliorare le probabilità di recupero di Feliciano. Tuttavia, l'arrivo del nuovo medico introduce una nuova dinamica, complicando ulteriormente le relazioni e gli eventi nel palazzo. Il medico appena arrivato evidenzia la precaria salute di Feliciano, aumentando l'ansia e abbassando le speranze. Questa consapevolezza diffonde nell'intero palazzo l'urgenza di impegnarsi maggiormente per il benessere di Feliciano. Petra incolpa Abel e Giana per il peggioramento delle condizioni di Feliciano, generando tensioni e conflitti emotivi nel palazzo. La situazione stressante e ansiosa si intensifica e le accuse di Petra diventano il catalizzatore di un crescente scetticismo nei confronti del ruolo di Abel e Giana nel processo di cura. Mentre cercano di difendersi, Abel e Giana ammettono di essere emotivamente sopraffatti, assicurando che stanno facendo tutto il possibile per migliorare la situazione di Feliciano. La riluttanza di Petra a lasciare il fianco di Feliciano dimostra il suo impegno emotivo e la sua lealtà. Mentre la salute di Feliciano peggiora, anche l'irrequietezza e la preoccupazione di Petra crescono. Per lui, stare al fianco di Feliciano e sostenerlo diventa un compito sempre più difficile. Nel frattempo, le tensioni aumentano tra i membri della famiglia, in particolare tra Petra, Abel e Giana, generando un clima di conflitto e sfiducia. La situazione nell'episodio 291 si fa sempre più complessa con il tentativo infruttuoso di un intervento chirurgico da parte di Abel e il continuo peggioramento delle condizioni di Feliciano. Questo scenario ha un impatto emotivo significativo sugli altri membri della famiglia, che si trovano costretti a confrontarsi con pensieri pessimistici riguardo al futuro di Curro. L'atmosfera nel palazzo diventa sempre più tesa, impregnata da un'attesa carica di incertezza. Mentre Abel si impegna nella rivalutazione delle condizioni di Curro e nella revisione del piano di trattamento, gli altri membri della famiglia cercano di esprimere solidarietà. Tuttavia, l'incertezza su Curro sottopone tutti a un calvario emotivo e psicologico, evidenziando la fragilità dei legami familiari in una situazione così delicata. Le reazioni di Petra, con la sua riluttanza di staccarsi da Feliciano, si intrecciano con il complesso quadro emotivo della storia. La sua lealtà e preoccupazione diventano manifestazioni visibili del profondo coinvolgimento emotivo della famiglia di fronte alle sfide e alle incertezze che si presentano. Petra è al fianco di Feliciano, incoraggiandolo, dandogli speranza e dandogli il sostegno di cui ha bisogno per riprendersi. Nel processo, gli altri membri della famiglia apprezzano l'atteggiamento forte e altruista di Petra e questo rafforza ulteriormente i legami familiari. Finché Feliciano sarà con lei, Petra, insieme agli altri membri della famiglia, sarà pronta a fare tutto il possibile per la salute di Feliciano. Tuttavia, l'interesse di Petra per Feliciano attira anche l'attenzione di Cruz. Cruz sospetta che questa relazione sarà più di una semplice relazione tra fratelli. I sospetti di Cruz sull'interesse di Petra per Feliciano aumentano la complessità dei rapporti all'interno della famiglia. Pensa che il legame emotivo di Petra con Feliciano vada oltre un normale rapporto fraterno. La rabbia di Teresa nei confronti di Abele e Giana aumenta ulteriormente la tensione nel palazzo e indebolisce il senso di unità all'interno della famiglia. Questa situazione approfondisce l'atmosfera di sfiducia e conflitto tra i membri della famiglia. Le crescenti critiche e rabbia per le decisioni e le azioni di Abele e Giana iniziano a indebolire lo spirito di solidarietà nel palazzo. Inoltre, la rabbia di Teresa comincia a diffondersi tra gli altri membri della famiglia, creando un clima di malcontento generale. Con l'aumentare della pressione di Cruz su Pelaio emerge la chiara necessità di allontanare Catalina dal palazzo e accelerare i preparativi per il matrimonio. Cruz mira a neutralizzare Catalina per attuare i suoi piani e consolidare il proprio potere all'interno della famiglia. La decisione di rimuovere Catalina crea un terreno fertile affinché i machiavellici piani di Cruz abbiano successo e si avvicinino ai suoi obiettivi, creando un clima di tensione e incertezza nel palazzo. Quando Manuel si avvicina per sostenere Giana, quest'ultima appare distante, rivelando la complessità del suo stato emotivo. Giana, con la sua storia personale o conflitti interiori, ha costruito una barriera emotiva nei confronti di Manuel. Nonostante gli sforzi ben intenzionati di Manuel, Giana mantiene una chiusura emotiva, rendendo il loro rapporto ancora più intricato. Manuel, consapevole della necessità di comprendere questa situazione e di essere paziente, compie il coraggioso passo di affrontare direttamente Giana sulla possibile relazione tra lei e Abel. Questa domanda mira a rivelare le preoccupazioni e le certezze che tormentano Manuel da tempo, portando alla luce le dinamiche complesse della sua relazione con Giana. Tra gli eventi che si susseguono nel palazzo, le condizioni di Curro peggiorano nuovamente, suscitando grande preoccupazione e tristezza. Gli abitanti di palacio sono profondamente preoccupati per questo nuovo sviluppo nella lotta sanitaria di Curro. Mentre Abel e Gili altri medici dedicano ogni sforzo per curare Curro, il resto della famiglia si ritrova in una vigile attesa, pregando per la sua guarigione. Nell'episodio 292, Giana è visibilmente arrabbiata per la domanda di Manuel, intensificando la complessità della sua situazione emotiva. La richiesta di Manuel complica ulteriormente la già intricata trama emotiva di Giana, suscitando una lotta interna e facendola sentire vulnerabile e offesa. Il fatto che Manuel ponga questa domanda prima di fare una dichiarazione emotiva rafforza la sensazione che Giana sia emotivamente instabile. Questo aggiunge ulteriori complicazioni alla loro relazione, minando la fiducia di Giana in Manuel. Mentre Manuel cerca di risolvere la situazione, le cose prendono una svolta inaspettata, portando a nuove sfide emotive e relazionali nel palazzo. Nonostante i persistenti sforzi di Manuel per risolvere le sue complesse situazioni, la situazione si fa sempre più intricata, con ostacoli imprevisti e fraintendimenti che minano i suoi progressi. La sua crescente frustrazione e stress lo spingono a cercare disperatamente una soluzione. Manuel, sentendosi sotto pressione, prende una decisione cruciale che avrà un impatto significativo sulla sua vita e sul destino della famiglia Lujan. La scelta di Manuel altera i piani precedentemente stabiliti da Cruz, gettando incertezza sul futuro della famiglia Lujan. Nonostante già gli sforzi disperati di Cruz per cambiare la decisione di Manuel, quest'ultimo rimane irremovibile, aumentando così la tensione tra loro e lasciando in sospeso il destino della famiglia. Romulo, Manuel e Alonso si riuniscono per discutere dei sospetti riguardanti l'incidente di caccia. Romulo condivide la sua convinzione che gli eventi non siano stati una coincidenza, ma un atto pianificato. Insieme, esaminano attentamente i dettagli dell'incidente, analizzano le dichiarazioni dei testimoni e, raccogliendo prove, Romulo giunge alla conclusione che l'attacco a Curro è stato intenzionale. Decisi a scoprire la verità, Alonso e Manuel tornano sul luogo dell'incidente per un'ispezione più approfondita. Con una maggiore attenzione all'ambiente circostante, si dedicano alla raccolta di prove, determinati a individuare le ragioni dietro l'attacco e a scoprire l'identità dell'aggressore. La loro determinazione li guida in un percorso intricato di indagine, gettando luce sui misteri che avvolgono la giornata di caccia. Il passo intrapreso per svelare la verità sull'incidente di Curro si rivela fondamentale per gettare luce su quanto accaduto e garantire la sua incolumità. Mentre Simona sperimenta la gioia di riabbracciare sua figlia Virtudes, l'assenza di risposte su Antonito da parte di Candela e Virtudes alimenta dubbi e interrogativi nella mente di Simona. La curiosità di Cruz sulla natura della relazione tra Petra e Feliciano lo spinge ad interrogare Pia per ottenere chiarimenti. Pia, rispondendo con sincerità, fornisce una spiegazione esaustiva della situazione. Rivela che il legame tra Petra e Feliciano va oltre il semplice vincolo di fratellanza. Questa rivelazione lascia Cruz sorpresa, svelando un intreccio di relazioni più complesso e profondo all'interno del palazzo. Nel corso dell'episodio 293, consapevole di quanto appreso sulla relazione tra Petra e Feliciano, Cruz prende decisioni di grande portata. Realizzando l'impatto devastante che questa situazione ha sugli equilibri e sulla fiducia all'interno della famiglia, Cruz si impegna a agire con determinazione. Inizialmente valuta attentamente i potenziali pericoli associati a questa relazione e riflette sui suoi possibili effetti sulla famiglia e sul palazzo. Successivamente decide di adottare le misure necessarie per risolvere la situazione, con l'obiettivo di ripristinare la pace all'interno della famiglia Lujan. La preoccupazione per la salute di Curro getta un'ombra sul palazzo Lujan, ma simultaneamente si pone l'importante questione del matrimonio imminente tra Catalina e Pelayo. In questo intricato dilemma il mantenimento di un equilibrio emotivo tra i membri della famiglia è cruciale. Mentre l'attenzione è naturalmente rivolta alla salute di Curro, è altrettanto importante considerare la felicità di Catalina e Pelayo, cercando di evitare divisioni familiari o disordini emotivi. Se il contenuto è di tuo interesse, iscriviti subito al canale e scopri il resto. L'ardente desiderio di Catalina di restare nel palazzo per sposare Pelayo genera alcune discussioni familiari. Nel contempo, la decisione di Maria Fernandez e Salvador di unirsi in matrimonio, nonostante le avversità vissute, sottolinea la forza del loro amore e della loro solidarietà. Questo passo dimostra il loro impegno reciproco e il desiderio di costruire un futuro insieme, nonostante le difficoltà incontrate. La scelta di Maria Fernandez e Salvador rappresenta una testimonianza della loro determinazione ad affrontare insieme le sfide future e a sostenersi reciprocamente. Questo impegno è stato rafforzato dalle avversità, consolidando ulteriormente il loro legame. Con il proposito di rendere il momento del loro fidanzamento speciale, è probabile che Maria o Salvador stiano progettando un piano creativo ed emotivo, come una cena romantica, un picnic in natura o un momento memorabile in un luogo significativo. Nel frattempo, Manuel, deciso a ottenere il successo nella prossima Herzog-Stackman Cup, affronta la sua sfida sportiva con determinazione. Nonostante le preoccupazioni della famiglia, Manuel si impegna in un rigoroso programma di allenamento, dimostrando la sua dedizione a realizzare i suoi sogni. Cerca anche il sostegno della famiglia, desideroso di dimostrare loro la sua perseveranza e determinazione nel raggiungere l'obiettivo prestigioso. Prima di partire dal palazzo, decide di fare una visita finale a Iana. In questo toccante incontro, Manuel apre il suo cuore a Iana, condividendo sospetti che pesano sulle sue spalle. Con convinzione, Manuel esprime il suo timore che Abel stia orchestrando manovre per separarli, sostenendo che dietro le azioni di Abel C. sia uno scopo nascosto. Queste rivelazioni lasciano Iana senza parole e il seme del dubbio inizia a germogliare nella sua mente. Le accuse di Manuel spingono Iana a riconsiderare la fiducia che ha riposto in Abel, aprendo la strada a un'indagine personale sulla verità. In questa conversazione, oltre a confermare il sostegno incondizionato di Manuel nei confronti di Iana e il profondo legame tra di loro, si innesca un processo di autoanalisi per Iana. Questo confronto non solo sollecita una revisione critica delle dinamiche interne al palazzo, ma avvia anche un processo di autoscoperta e crescita personale per Iana. Grazie per guardare il video. Iscriviti, lascia un like e commenta cosa ne pensi. Il tuo supporto significa molto per noi.